Buongiorno, allora, innanzitutto mi metto un attimo comoda, aspettate, quello che vedete sullo sfondo è il mio computer perché oggi vorrei fare questo tag, visto che qualcuno me l'ha chiesto, che era incuriosito da quello che pensavo o facevo riguardante il mondo dei libri oggi ho deciso di fare questo tag veramente carino di 25 domande che probabilmente dovrò dividere in due o forse anche tre parti perché io sono ologoroica e una volta che mi ci metto comincio a parlare a metraglietta e si salvi chi può il tag è indiscrete domande letterarie, molto molto simpatico allora, parto subito 1. Come scegli un libro? Ti fa influenzare dalle recensioni? allora, io ho una wishlist che puntualmente viene disattesa, nel senso, so che vado in libreria, me la leggo, mi scelgo dei titoli da trovare poi puntualmente arrivo in negozio e me li scordo quindi, io seguo questo stratagemma, ne scelgo uno della wishlist e gli altri che compro mi lascio guidare dalla fantasia, dalla curiosità e in questo caso poi, ti fa influenzare dalle recensioni? non tantissimo, dipende da quello che vado a comprare per esempio, se sono classici complicati, come per esempio Guerra e Pace che ho comprato e ho letto lì ho letto le recensioni e l'ho comprato in base alle recensioni perché, detto fra noi, se vedete Guerra e Pace vi provoca uno svenimento quel libro quindi, comprate l'occhi chiusi le recensioni le leggo, mi piace leggerle, mi piace confrontarmi con la gente voglio sapere che cosa ne pensano altri di un libro che a me è piaciuto insomma, le leggo ma non è che mi faccia influenzare tantissimo se vedete casino scusate dove compri libri? libreria online assolutamente in libreria la libreria è un posto che mi rilassa mi piace proprio l'odore a me della libreria io non so se sono malata ditemelo anche voi se vi succede la stessa cosa ma io la prima cosa che faccio quando compro un libro è annusarlo io dico sempre, nella mia vita precedente molto probabilmente ero tipo un cane da caccia perché tutto ciò che compro lo annuso compreso i libri no, non posso dire su youtube che annuso le cose vabbè, in libreria perché mi rilassa, mi piace l'odore non è la stessa cosa comprare online mi piace proprio perdere tempo in libreria aspetti di finire una lettura per comprarne altre o hai la scorta? ovviamente ho la scorta non si può mai sapere cosa succede domani al mondo di solito quando leggi ogni minuto libero ogni minuto libero d'estate leggo molto prima di pranzo, dopo pranzo, in spiaggia, prima di dormire vabbè, sempre ti fa influenzare dal numero di pagine? no, sinceramente non mi importa niente può avere due pagine come può averne 180 come può averne 1500 come guerra e pace genere preferito? ma che ve la faccio a fa' sta domanda? tanto l'avete capita? mi piacciono le biografie mi piacciono i romanzi storici mi piacciono i romanzi godici e strizzo l'occhio anche ai fantasy anche quelli di genere, diciamo, sociale di denuncia autore preferito? no, non c'è un autore preferito però ci sono autori che posso dirvi che mi appassionano più di altri per esempio c'è Stephen King che è fenomenale mi piace come scrive Dennis Leehan e come scrive Safon mi piace Jane Austen ragazzi, questo video durerebbe 15 minuti solo per l'elencare gli autori preferiti non ho un autore preferito non mi lascio influenzare dal fatto che un autore sia più o meno bravo leggo tutto quando è iniziata la tua passione per la lettura? allora, la mia passione per la lettura paradossalmente è iniziata tardi perché fino alle scuole superiori io odiavo leggere semplicemente per il fatto che dovevo per forza leggere dei libri imposti e a me l'imposizione dà veramente fastidio quindi per ripicca non leggevo niente quando ho finito le scuole superiori ho cominciato a leggere per passione personale e infatti ho ripreso anche da mia nonna per questa cosa presti i libri? assolutamente no! io non... ma che siamo maddi? è come se mi dicessi... non so tagliati una ciocca di capelli e prestala a una tua amica per farsi l'extension ma che siamo maddi? legge un libro alla volta o diversi contemporaneamente? no, ne leggo uno alla volta perché voglio concentrarmi e capirlo bene leggerne contemporaneamente mi sembra di fare un lavoro affrettato un lavoro superficiale di non rendere giustizia all'autore che sto leggendo eh sì, so un po' così vabbè i tuoi amici o familiari leggono? leggeva molto mia nonna che adesso non c'è più quella della signora delle Camelie da lei ho ripreso questa passione mia madre legge molto i quotidiani legge sì qualche libro che gli consiglio io ma per il resto amici sì qualcuno ma diciamo che ho più persone che non leggono intorno sono un'oasi felice io mi ritengo così quanto ci metti in media a leggere un libro? dipende dal periodo magari se al lavoro sono dal ritorno al lavoro sono stanca io non leggo per niente possono esserci dei giorni che non leggo niente o dei giorni in cui mi finisco un libro diciamo che in genere faccio proprio se mi costringesse qualcuno a rispondere a questa domanda direi un libro a settimana diciamo ma può essere anche di no può esserne che ne leggo tre a settimana o uno al mese dipende dal momento quando vedi una persona che legge sbirci subito il titolo? assolutamente sì ah tra l'altro io sono una di quelle che sulla metropolitana legge il giornale degli altri però odia che qualcuno legga il suo libro il suo giornale sulla metropolitana quindi sì sbircio subito il titolo e cioè veramente mi contorco su me stessa per cercare di leggerlo il meglio possibile sono uno spettacolo in metropolitana se tutti i libri del mondo dovessero essere bruciati quali salveresti? speriamo che non vengano mai bruciati oddio che brutta domanda quale libro salveresti? dunque se dovessero essere bruciati tutti i libri vuol dire che siamo proprio in un periodo politico e sociale bruttissimo vuol dire che sicuramente staremo in dittatura quindi io anche per relativo ai miei studi salverei sì salverei utopia di Tommaso Moro che è una visione dello Stato oddio sto parlando di un argomento che magari non gliene frega niente a nessuno però utopia di Tommaso Moro che Tommaso Moro si inventa questa forma di Stato basata sulla giustizia sulla libertà e sul reciproco aiuto sulla solidarietà ecco che è bellissimo è spettacolare poi salverei l'evoluzione della specie di Dorwin sicuramente salverei 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 un manuale di storia perché è questo? non perché è la mia materia preferita ma anche per quello me lo nascondo non lo so sotto la maglietta salverei un libro di storia perché purtroppo gli italiani hanno la memoria corta e la storia invece ci insegna che ci insegna cose belle e cose brutte ma soprattutto ci insegna dovrebbe insegnarci a non commettere gli stessi errori quindi uno su tutti salverei un manuale di storia perché ti piace leggere? perché mi rilasso? perché è un momento in cui la mia mente va proprio libera la fantasia a briglia sciolta mi sento bene mi sento veramente bene quando leggo leggi libri in prestito solo che possiedi? no solo che possiedo perché odio prestare libri e odio riceverne in prestito non li sento più miei libro che non hai mai finito? uno sfigatello che avevo pescato in un cesto di un grosso supermercato che era proprio brutto mamma mia non mi ricordo neanche il titolo pensate un po' cosa ti attrae in un libro? hai mai comprato in base alla copertina? di un libro mi attrae il fatto che possa diciamo mi incuriosisce l'intensità della mia curiosità come posso dire? ci sono dei libri che mi incuriosiscono più di altri non so perché è una sensazione proprio a pelle una volta ho comprato in base alla copertina e sono rimasta delusa quindi non lo farò mai più comunque mi attrae in un libro non lo so veramente è una sensazione proprio a pelle non so spiegarla è boh non lo so non so sinceramente spiegarlo guardate io questo video la prima parte direi di finirla qui quindi ci vediamo al prossimo dai ho fatto le prime 18 pensavo di andare molto peggio al prossimo aspettate lì fermi vi vedo che vi state alzando fermi aspettate